salve a tutti ragazzi sono sempre io il vostro vincenzman e quest'oggi ragazzi siamo su archiro ragazzi quest'oggi avventura infinita e ragazzi finalmente ho superato il mio record ragazzi nuovo boss nuovo livello boss numero 140 non ho mai affrontato questo boss non so neanche che tipo di boss ci sia quindi ragazzi direi che andare no ma vaffanculo pezzo di merda mi hanno detto proprio raga mi hanno detto uh questa è buona questa è buona ragazzi andiamo andiamo eh non lo so ma ragazzi ce la faccio eh mo i mostri sono fatti veramente bruttivi eh raga è difficile mo no secondo me no ok mi nascondo qua ok no pezzo di merda no vabbè vabbè ragazzi sono felice così un nuovo record ragazzi un nuovo record mi piace numero 143 va bene ragazzi ci vediamo in prossimo episodio di archiro ciao